Ieri due incidenti sullo stesso lato di piazza Malatesta a Rimini, grave un 78enne colto da Malore che ha perso il controllo della bici ed è caduto all'altezza del fossato. Coronavirus. A Rimini il numero dei nuovi contagi torna a una cifra. In una settimana i casi attivi si sono ridotti di quasi un terzo. Merito dei vaccini, sottolinea l'Ausle. Ieri sera Cattolica ha acceso confronto nell'appuntamento con i quattro candidati a sindaco promosso dal gruppo Icaro. Oggi ospite a tempo reale speciale lezioni Sergio Valentini di Rimini in Comune. Basket al Teatro Galli di Rimini la serata di presentazione di RBR espresse con decisione le ambizioni di promozione. Buonasera e bentrovati a questo appuntamento con l'informazione locale di Icaro Tg. Ieri nella nuova piazza Malatesta a Rimini sono avvenuti due incidenti. Il primo intorno alle 11 quando un anziano con difficoltà motoriche utilizzava un deambulatore da passeggio è caduto nel fossato della piazza. L'uomo è stato subito soccorso da alcuni passanti che hanno chiamato il 118. È stato poi trasportato d'urgenza al pronto soccorso. Nella caduta si è perforato la milza. Ora è ricoverato all'ospedale infermi. Non è in pericolo di vita. E poi ieri sera intorno alle 21.15 un 78enne in bici è caduto sempre nel fossato dopo un improvviso arresto cardiaco. Secondo alcune testimonianze avrebbe battuto violentemente il capo a terra. Dopo i primi soccorsi dei passanti e della polizia di Stato è intervenuto il 118. I sanitari hanno rianimato il 78enne per oltre mezz'ora. È ricoverato in rianimazione agli infermi. La prognosi è riservata. La ricostruzione dell'incidente è affidata alla polizia locale. Intanto oggi pomeriggio intorno alle 15 il perimetro del fossato è stato interamente recintato. Ma subito si sono accese polemiche sulla sicurezza della piazza. Parliamo di coronavirus. Ancora numeri minimi per i nuovi casi a Rimini dove in una settimana i casi attivi si sono ridotti di quasi un terzo. E se c'è il primo numero consistente di classi in quarantena 11 la scorsa settimana, negli ospedali la situazione resta sotto controllo. Merito, sottolinea l'Ausl in Romagna, della campagna di vaccinazioni che limita gli effetti del contagio. Tornano a una cifra i nuovi contagi in provincia di Rimini. Sono nove di cui sette sintomatici. In regione i nuovi contagi sono 258, ieri 197, su un totale di 29.500 tamponi. La percentuale dei nuovi positivi sul totale dei test è dello 0,9%, ieri lo 0,5. Sale l'età media dei nuovi contagiati. Oggi 39,8 anni rispetto ai 34,1 di ieri. Ci sono purtroppo sei decessi. Nessuno in provincia di Rimini. Le età vanno dai 58 ai 95 anni. In regione le guarigioni sono solo 136. I casi attivi tornano a crescere, seppur di poco. A oggi sono 13.984 rispetto a ieri, 116 in più. È fermo il dato degli ospedali. I ricoveri in terapia intensiva sono 47. Gli stessi di ieri, Rimini resta a 5. 385 quelli negli altri reparti covid, uno in meno. In Romagna, nel dato di lunedì, sono 58 i pazienti ricoverati, di cui 6 in terapia intensiva, con un trend ancora in leggero calo. Il livello di occupazione covid è ampiamente sotto controllo. In provincia di Rimini, nella settimana 20-26 settembre, i nuovi casi sono stati 168 rispetto ai 242 della settimana precedente. I casi attivi sono scesi da 693 a 503. In Romagna, secondo lo studio della regione, i non vaccinati hanno un rischio circa 5 volte maggiore di acquisire l'infezione rispetto ai vaccinati e un rischio 8 volte maggiore di essere ricoverati in ospedale per covid. Per percentuali di coperture, Rimini continua a restare indietro sul resto della Romagna. La copertura riminese è del 73% rispetto a una media romagnola del 78. Nella fascia 12-19 anni, la copertura in provincia di Rimini è del 56% per salire al 67. Nella fascia 20-29. Siamo alla politica. È andato in scena ieri sera all'hotel Waldorf Palace il confronto tra i candidati a sindaco di Cattolica organizzato dal gruppo Icaro. Tanti temi che hanno scaldato la platea e i candidati. Un confronto acceso davanti a un pubblico numeroso e coinvolto che più volte nel corso della serata si è fatto sentire. Teatro del dibattito organizzato dal gruppo Icaro, la sala convegni dell'hotel Waldorf di Cattolica. Protagonisti, i quattro candidati sindaco ormai arrivati al rush finale della loro campagna elettorale. Mariano Gennari, Massimiliano Gessaroli, Franca Foronchi e Francesco Vittori. Per loro c'è stato il modo anche di esplicitare alcuni provvedimenti che vorrebbero applicare nei primi 100 giorni di un eventuale governo. Toglierò immediatamente la ciclabile riposizionando il doppio senso in via del Prete e al lungomare e mettendo nuovi parcheggi in via Matteotti e in via Corridoni circa 40. Secondo progetto partiranno subito le richieste al Ministero delle Infrastrutture portando i giusti documenti per richiedere l'allargamento del lungomare attraverso lo spostamento della linea demaniale. Potenziare quelli che sono i servizi pubblici del Comune di Cattolica e rispondere a quelle che sono le emergenze sociali più importanti. Destinare quelle che sono le risorse, cambiare rotta delle risorse destinate per esempio al lungomare e al metromare, quindi un stop a questi due maxi interventi e destinare queste risorse alle fasce più deboli della popolazione. A scaldare il dibattito è il tema molto sentito dalla cittadinanza dello spostamento della scuola primaria Repubblica, il cui edificio presenta problemi statici nella zona del VGS. La scuola della Repubblica deve essere rifatta perché ovviamente non ha più le condizioni sismiche di sicurezza, però noi diciamo che deve essere rifatta lì dove si trova, vicino al centro culturale polivalente, alla piazza della Repubblica, al teatro, quindi si trova veramente in un luogo idoneo per le scuole. Il referendum andava fatto prima quando sono state raccolte le 1500 firme e non adesso. Vedremo il progetto che si presenta alla nuova scuola, non è possibile rimettere in sesto quella scuola, va demolita e ricostruita, in caso di demolizione e ricostruzione ci sono dei requisiti che in quella zona non ci possono essere, tra l'altro voglio dire lì sarà vicino al centro polivalente, sono bambini delle elementari. Speciale Elezioni Tempo Reale dedicato ai candidati a sindaco del Comune di Rimini, ospite questa mattina il candidato per Rimini in Comune, Sergio Valentini, ascoltiamo un passaggio dell'intervista sui motivi che l'hanno portato a mettersi in gioco. Io ho incognato questo termine che poi ai giornalisti è piaciuto abbastanza, vedo lo riprendono parecchie volte, della signoria, il Comune è diventato una signoria. Il primo scopo per noi è entrare in Consiglio Comunale, rompere questa specie di incantesimo, sempre per mantenere le figure un po' metaforiche, che si è realizzato nella seconda giunta Agnassi, la seconda giunta Agnassi secondo noi è abbastanza diversa dalla prima, ha compiuto una parabola di allontanamento se non è del castello, dai cittadini e questo l'ho sentito molte volte, anche negli incontri, molti hanno detto ma noi non sappiamo cosa succede, anche associazioni, gente che dovrebbe essere anche un po' addetta ai lavori, dicono noi non sappiamo mai cosa succede, arriviamo sempre ai ultimi, le cose già fatte, abbiamo visto che questo è un problema che si è visto anche l'altra sera, ricade poi su tante cose, perché su come vengono affrontate le questioni anche più su banali, via Ducale faccio un esempio, qui non è questione di soldi, non è questione di grandi strategie, non è questione di potere e non potere, è questione di volere. E domani dalle 10 ospite di Tempo Reale sarà Matteo Angelini, il candidato al sindaco del Movimento 3V, si spacciano per fattorini di una ditta di spedizioni e portano via abiti da una stileria professionale di Coriano per un valore di 33 mila euro, i carabinieri della compagnia di Riccione ieri mattina hanno arrestato per tentata truffa e ricettazione due pregiudicati originari della provincia di Napoli, di 31 e 34 anni, con un furgone a noleggio si sono presentati per ritirare il carico, ma sono presto intervenuti i carabinieri, chiamati dalla titolare, insospettiti dalla chiamata con la quale i due preannunciavano il ritiro nel retro del furgone che era noleggiato, i militari hanno trovato numerose divise dei più noti vettori espedizionieri. In due mesi la polizia stradale di Rimini ha rilevato più di 3.500 infrazioni al codice della strada, 50 sono state compiute col monopattino, croce e delizia della cosiddetta mobilità dolce. Intanto il comune di Rimini, proprio in tema di monopattino, ha raggiunto un accordo per metterne a disposizione per il voto di domenica e lunedì. Dal 1 luglio al 20 settembre la polizia stradale di Rimini ha rilevato 3.526 infrazioni al codice della strada. Nelle campagne di prevenzione alle stragi del sabato sera sono state messe in campo 593 pattuglie di vigilanza e 9 servizi dedicati. 196 violazioni per guida in stato debrezza, 16 per guida senza casco, 269 per mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, 131 per utilizzo del telefono cellulare alla guida, 31 per guida senza patente o con patente revocata, 284 per velocità eccessiva. Per tutta l'estate particolare attenzione è stata rivolta ai conducenti dei monopattini, 50 le violazioni commesse, di cui 26 per guida in stato debrezza e 24 per esserci saliti in troppi. Un altro problema che pone l'uso dei monopattini è certamente il decoro urbano, abbandonarli ai bordi delle strade o in mezzo alla strada, oltre a essere brutto è anche molto pericoloso. Intanto oggi Bird Rights Italia, in collaborazione con FIAB, Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta, ha annunciato che offrirà a tutti coloro che andranno a votare per le elezioni amministrative domeniche 3 e lunedì 4 ottobre due corse gratuite in monopattino elettrico in sharing per percorrere il tragitto casa-seggio elettorale a Rimini e nelle altre città coperte dal servizio, Roma, Milano e Torino. Per usufruirne sarà sufficiente scaricare l'app Bird e accedere alle due corse gratuite fino a 15 minuti. L'iniziativa vuole aiutare i cittadini a muoversi in modo sostenibile e conveniente in città, abbandonando l'auto e gli altri mezzi inquinanti, rispettando il codice della strada e il decoro urbano, sempre che si riesca ad usarli senza incorrere in sanzioni. Si svolgerà nel fine settimana a Riccione il 56esimo premio Riccione per il teatro. In attesa dello spazio tondelli che è in fase di ristrutturazione, gli appuntamenti si svolgeranno in diversi luoghi della città. Essendo un premio che scommette sui giovani talenti, sia un premio già di per sé importantissimo. C'è anche Stefano Accorsi tra i giurati del 56esimo premio Riccione per il teatro, preseduto da Lucia Calamaro, prima donna dopo Sibilla Leramo, che guidò la giuria nel 1947, anno di nascita del premio. I vincitori, scelti tra gli oltre 400 test arrivati, saranno annunciati domenica 3 ottobre alle 18 al Palazzo dei Congressi, in un evento che vedrà in scena anche il concerto l'anno che verrà, a tributo a Lucio Dalla, ma anche alla città di Riccione che tra 12 mesi festeggerà il centenario. Il premio Riccione, che di per sé è un progetto che ha nel suo DNA una vocazione maieutica, di far sbocciare i testi, di far sbocciare gli autori, può essere davvero in questo momento storico anche un tema che schiude, diciamo così, anche opportunità di incontri e di progettualità più ampie. Il premio sarà vissuto in tre giorni con proposte particolari come camere separate, drammaturgie sonore che vivranno in alcune stanze d'albergo. Ecco, i nostri spazi saranno quelli, gli spazi anche non convenzionari, ma gli spazi che in qualche modo attraversiamo nella nostra città. Sono il Palazzo del Turismo, che è di fatto un palazzo monumentale, storico della nostra città, simbolo, che ospiterà la scuola di scrittura e anche gli incontri e anche lo spettacolo in realtà virtuale di Elio Germano, un suo pirandello. Il Palazzo dei Congressi, la Sala Concordia, che ospiterà la cerimonia di premiazione. Infine, dove siamo ora? All'Hotel Parco, che ci ha consegnato di fatto le chiavi dell'albergo per trasformarlo appunto in un hotel performativo, che ospiterà nelle camere dell'albergo il Teatro dell'Ascolto. Sono progetti innovativi, sperimentali, che senz'altro però potranno attrarre anche un pubblico più ampio. Secondo appuntamento, ieri sera in Sala Manzoni a Rimini per la Settimana Biblica, a riflettere sul tema Una Comunità Secondo il Vangelo, è stata la teologa Suor Katia Roncalli, responsabile della Fraternità Evangelii Gaudium. L'abbiamo intervistata. Il tema di questa serata della Settimana Biblica è Una Comunità Secondo il Vangelo. Ma è possibile? Più che possibile è la verità di ciò che la comunità è, di ciò che la Chiesa è. La Chiesa è la manifestazione, è l'epifania della vita di Dio sulla terra. E quindi la Chiesa è secondo Dio, secondo il Vangelo, secondo Cristo. Ora, la questione fondamentale è in quale Dio noi crediamo, com'è la vita di Dio. Se è vero che crediamo in un Dio uno, ma non unico, cioè la comunione delle tre persone diverse, sappiamo che questa vita che siamo chiamati a manifestare come Chiesa è proprio la vita nella comunione. E la comunione non si fa con le cose, ma si fa con le persone. La comunione è tra le persone. E quindi, di fatto, la questione fondamentale oggi è dare avvio a quello che Papa Francesco chiama un processo, che sarà sicuramente lungo, forse anche un po' faticoso, ma un processo di conversione. La Chiesa sta vivendo, in qualche modo, le conseguenze gravi di un'enorme svista, nella quale a un certo punto ci siamo un po' persi. Liberati dalla legge, liberati dal gioco della religione, a un certo punto è accaduto che ci siamo rimessi di nuovo da soli addosso il gioco della legge e della religione. E nella religione il centro è l'uomo e ciò che l'uomo fa per Dio. L'esperienza della fe è esattamente il contrario. Il centro è ciò che Dio fa per l'uomo e ha fatto per l'uomo.